Siamo con il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, che vuole dire una cosa. Oggi una comunicazione molto importante. Il 21 scorso è stato finalmente abbattuto il muro di Berlino a San Giovanni Teatino. Il muro che volevano fare e che non faranno. In che senso? Perché finalmente è stato sottoscritto l'accordo tra la regione Abruzzo e RFI comune di San Giovanni Teatino per quanto riguarda l'interramento dei famosi 540 metri. Quindi orgogliosamente dico che San Giovanni Teatino ha vinto questa battaglia grazie alla politica, grazie a chi ha creduto in San Giovanni Teatino e in quello che era indispensabile fare. Stiamo parlando naturalmente della velocizzazione Pescara-Roma. Sì, Pescara-Roma, che spero veramente che inizi subito questa bellissima opera, che io ho sempre voluto, ma in modo costruttivo e non distruttivo. Oggi dico che San Giovanni Teatino è soddisfatto. Mi auguro solo di vedere al più presto le ruspe a iniziare i lavori. Sindaco, questa galleria, diciamo, sotterranea, quanto sarà lunga? Circa 540 metri, inizia da prima di via Pertini, quindi sotto Pasqua verrà eliminato, che sarà il passaggio a raso giustamente, per poi continuare fino oltre il Corso d'Italia, andiamo sempre verso Chieti, la lunghezza, ripeto, di 540 metri, con poi le risalite in entrambi i lati di circa 800-900 metri. Andiamo a vedere? Senz'altro, orgogliosi di accompagnarvi. Siamo in via Magellano, dove sorgerà la nuova stazione di San Giovanni Teatino, proprio di fronte all'aeroporto. Sì, via Magellano, che porta appunto verso la stazione, che già vedo in lavorazione, perché è un qualcosa che attendiamo con ansia, e da qui, costeggiando la ferrovia, arriviamo fino proprio all'interno dell'aeroporto stesso. Quindi una leggerissima distanza, siamo alleviati appunto da questo bus navetta, questo trasporto, diciamo, veloce, che va a servizio della stazione per poi dall'aeroporto. Qui siamo già fuori, quasi al limite, non dell'interramento, ma del passaggio intrincea, cioè, spiego meglio, dopo l'interramento, diciamo, da entrambi i lati dell'interramento, ci sono le risalite per tornare in superficie. Qui siamo a circa 800 metri dalla fine interramento, quindi siamo all'inizio, diciamo, della linea in piano. Sindaco, ci siamo spostati in un altro punto della città, punto nevralgico, via Pertini. Qui cosa succederà? Via Pertini sarà eliminato come sottopasso e ci sarà il famoso passaggio a raso, cioè il passaggio sopra, oggi, le linee ferrate, perché qui siamo già in zona interramento. Interramento che inizierà a qualche decennio di metri, più a valle, verso Pescara. Il secondo passo quale sarà, Sindaco? Il secondo passo sarà quello di essere al fianco di tutti i cittadini che perderanno le proprie abitazioni, e quelle che rimarranno a ridosso, che veramente mi dispiace anche per loro, perché se sono troppo vicino potranno avere delle conseguenze. Ma ripeto, al loro fianco, per fare in modo che vengono retribuite al massimo, perché chi perde oggi un bene, che perde oggi la propria abitazione, è giusto che venga risarcito e farò il possibile, come sono certi, che Italferro, RFI, la Regione Abruzza capiranno questo problema e senza altro saremo vicino a loro.